Ciao ragazzi bentornati a un nuovo video su Gadgetan. Oggi vediamo questo scanner che si chiama ScanSnap ix100 e è ovviamente uno scanner portatile come potete immaginare e pesa pochissimo pesa solo 400 grammi ed è l'ideale per l'uomo da fare ad esempio quindi per essere trasportato sempre nella sua 24 ore e avere uno strumento di scansione molto molto compatto sempre con lui oppure anche mi viene da pensare per quegli uffici dove non c'è lo spazio necessario per poter posizionare uno scanner A4 standard che come sapete è un po' più grosso di un foglio A4. Visto che si tratta di uno scanner per il mondo mobile lo vorrei provare con con l'iPad quindi ho già scaricato l'applicazione dall'app store che è gratuita. Per accenderlo è veramente semplice basta aprire il cassettino e sentiamo i rulli che fanno il check. Questa lucina blu lampeggiante sta a indicare che lo scanner sta cercando il mio iPad che è già stato abbinato e diventerà poi dopo fissa nel momento in cui andrò ad aprire l'applicazione. Ora è arancione perché l'iPad è spento. Nella parte posteriore abbiamo questo tastino che serve per per accendere o spegnere il wifi abbiamo un tastino WPS per abbinare in modo più semplice i dispositivi mentre da questo lato non c'è nulla da questa parte invece abbiamo una classica connessione con un cavo micro usb con questo cavetto lo scanner si può anche ricaricare perché ha una batteria interna ovviamente che è in grado di offrire circa 250 scansioni di foglia 4. Nella parte frontale poi vediamo che c'è anche la certificazione adobe pdf e sulla parte superiore abbiamo anche il tastino che serve per avviare la scansione quando siamo collegati con il cavetto micro usb al nostro computer mac o pc che esso sia. Per terminare con le specifiche vi dico che la grammatura della carta che è supportata va da circa 55 fino a 200 grammi al metro quadrato e che lo scanner è anche molto silenzioso infatti fa solo circa 50 decibel di rumore una volta che è in funzione. Veramente veramente compatto e anche molto molto leggero. Eccoci con l'applicazione già avviata in funzione come vedete la luce è diventata verde contrariamente alla blu che vi avevo detto prima errando e ho preparato tre fogli di diversa di diversa grammatura un bigliettino da visita in questo caso il nostro bigliettino da visita che ha una grammatura di circa 250 grammi quindi un pochino più più pesante del massimo consentito voglio vedere se ce la fa. Poi ho un foglio invece molto molto sottile che sono la carta velina sono le istruzioni che erano all'interno della confezione e poi è un classico foglia 4 all'incirca di 100 grammi 120 grammi anch'esso che era contenuto nella nella confezione sono le istruzioni del test dello scanner. Quindi direi di partire con in ordine quindi partiamo con il foglio più leggero va semplicemente posizionato sul davanti dello scanner dove il sensore vedete me l'ha già tirato dentro un pochino non ci resta che premere il tastino scan qui sull'ipad e vedere che cosa succede caspita scansione velocissima e non me l'aspettavo così veloce in realtà il documento è già pronto sullo schermo del mio ipad pro e abbiamo la possibilità di caricare un documento successivo quindi ribaltiamo il foglio proviamo a caricare la seconda la seconda parte vedete procedura del tutto automatica in questo modo possiamo creare dei pdf anche di più pagine vedete pagina 2 abbiamo finito direi che possiamo premere esci ed ecco qui il nostro pdf della dimensione di circa 600 kilobyte proviamo a vedere i dettagli del pdf direi che la scansione decisamente ottima anche perché la stampa non era questo granché di queste istruzioni la carta era molto molto sottile quindi la scansione ha rilevato anche quello che c'era e non so se riuscita a vederlo dietro il foglio proviamo con il foglio un po più spesso questa volta però apriamo il cassettino superiore in questo modo il foglio non dovrebbe finire ma dovrebbe ribaltarsi verso l'alto abbiamo le due linee guida che ovviamente marcano i bordi dello scanner non dobbiamo stare ovviamente centrati ecco qui che me l'ha tirato dentro andiamo a fare un'altra scansione voilà oltre a essere rapida la scansione è rapido anche il trasferimento del file che vediamo essere in questo caso di poco meno di mezzo megabyte e proviamo a fare una rotazione quindi modifica andiamo a ruotarlo in questo senso e poi fine come vedete anche in questo caso l'operazione velocissima e la qualità di scansione direi che decisamente elevata per uno scanner così compatto così portatile come modalità di condivisione vi faccio vedere abbiamo un apri in dove ci aprirò ovviamente tutte le app che abbiamo che sono predisposte alla condivisione di questo tipo di file che è un pdf abbiamo la funzione stampa e abbiamo anche la funzione invia per mail che ovviamente lo inserirà come allegato in un nuovo messaggio di posta sono veramente curioso di testare la scansione di un biglietto da visita perché eccede i limiti dello scanner quindi chiudiamo il coperchietto inseriamo il mio bigliettino da visita nella parte centrale me l'ha già risucchiato vediamo che cosa succede se lo incastriamo se abbiamo combinato un danno se ce la farà comunque incredibile ragazzi incredibile ce l'ha fatta vi faccio vedere a titolo clicchiamo su esci a titolo di fedeltà cromatica la differenza fra il bigliettino e il risultato della scansione direi che che ci siamo riesco anche vedere le magagne della stampa di vista print che dichiara un 300 dpi in realtà secondo me sono qualcosina meno perché riusciamo a vedere un pochino i difetti della stampa e detto questo beh che dire l'ho messo alla prova con un bigliettino che era molto più spesso del del suo limite massimo e ragazzi ce l'ha fatta quindi se siete un businessman o semplicemente una persona che colleziona centinaia e centinaia di bigliettini da visita in questo caso sappiate che lo scan snap x100 può fare anche questo mestiere è il momento di tirare le conclusioni ragazzi abbiamo scansionato diversi fogli dal più sottile al più pesante quindi quasi 250 grammi per metro quadrato e con estrema soddisfazione quindi ha superato addirittura le mie aspettative se devo trovare un difetto in questo scanner è il fatto che scalda leggermente nella parte inferiore durante l'utilizzo ma questo è normale e il fatto che una volta aperto il coprecchietto superiore si riveli questa plastica molto lucida che come vedete è molto molto sensibile ai micrograffi personalmente avrei scelto una plastica opaca per mantenere la resistenza ai micrograffi nonostante questi piccolissimi difetti che non potrebbero neanche essere chiamati tali lo scanner secondo la mia valutazione personale merita ben 5 stelle quindi il massimo della valutazione che possiamo conferire su gadgetland a un dispositivo e credo sia il migliore tra tutti gli scanner portatili che come ho visto e tra l'altro la storia di scasnap se non la conoscete è veramente lunga e credo in tutti gli uffici ci sia un prodotto di questo marchio che al momento appartiene a pfu e che dire ragazzi mi è piaciuto così tanto che adesso mi viene un po la mania di scansionare tutti i documenti qui in giro per casa bene detto questo vi saluto e vi aspetto al prossimo video se il canale vi piace iscrivetevi mettete un mi piace al video ciao dal vostro Marco Tognoli